Oggi, qui, accanto a me, potete vedere ci sono cinque bambini in rappresentanza dei cinque continenti. Insieme con loro desidero annunciare che nel pomeriggio del 6 novembre nell'Aula Paolo VI incontrerò bambini di tutto il mondo. Siamo con padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore, per parlare dell'udienza con i bambini che si terrà il prossimo 6 novembre in Aula Paolo VI, come ha annunciato il Papa domenica 1 ottobre al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. Padrenzo, di che cosa si tratta? Bene, intanto credo che con questo Angelus il Papa ci ha sorpreso. Vederlo circondato da cinque bambini provenienti da uno da ogni continente a rappresentare il mondo, si è fatto comprendere come queste braccia del colonnato di San Pietro diventano reali nella faccia di quella finestra, cioè le braccia del Papa, le braccia della Chiesa che davvero accolgono tutti. Credo di non sbagliare, è la prima volta che un Papa incontra tutti i bambini del mondo. Il Papa ci ha affidato l'organizzazione di questo incontro insieme al Di Castero per la cultura e l'educazione, quindi al Cardinal Tolentino e saranno davvero tanti, tanti bambini, tante delegazioni da tutto il mondo. Si sono messe a disposizione le scuole italiane, arriveranno quasi sei, sette treni da tutta Italia, Pullman, ma soprattutto dalle zone difficili del mondo e dalle zone povere del mondo, ma anche dalle zone significative del mondo come l'Amazzonia, per esempio, la Siria, il Marocco, la Palestina. Insomma, sarà davvero un momento per ascoltare i bambini. Il tema della giornata che il Papa ha annunciato è impariamo dai bambini e dalle bambine. Cosa significa imparare dai bambini e dalle bambine? Il Papa ci riporta al cuore del Vangelo. Lasciate, è Gesù che parla, lasciate che i bambini vengono a me o ancora, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Che cosa significa? Significa che bisogna accogliere, rispettare i bambini, stare con loro. Lasciate che i bambini vengono a me significa che la vita non è indaffarata, la vita ha delle priorità e tra queste la crescita e la tutela dell'infanzia. Ma ancora, quella imparata dai bambini, a lungo gli esegessi hanno discusso su queste affermazioni di Gesù. E una delle prime conclusioni è recuperare questo rapporto di fiducia con se stessi, con la vita, con gli altri. Oggi ci accorgiamo, guardandoci intorno, come questa fiducia è tradita. Allora il Papa la vuole rilanciare a tutti i livelli. Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti, tornare e avere sentimenti puri come i bambini. Perché chi è come un bambino appartiene al Regno di Dio. Come si svolgerà l'udienza? Bene, questo aspetteremo per le modalità dell'udienza, l'accreditamento, la partecipazione. Io vorrei attendere la conferenza stampa che faremo qui, nella sala stampa della Santa Sede, insieme a Cardinal Tolentino, insieme ad Aldo Cagnoli, Marco Impagliazzo, Angelo Chiorazzo, perché poi ci sono diverse realtà che stanno aiutando questo evento o alla Federazione Gioco Calcio Italiana e lì saremo più precisi e con tutti i dettagli. Come è nata questa iniziativa? Molto semplice, direi. Nei diversi colloqui con Papa Francesco, insieme ad Aldo Cagnoli, per un testo che poi accompagnerà l'evento, l'enciclica dei bambini, con una prefazione dello stesso Papa Francesco, è nata l'idea di dire che ci possiamo accontentare di un libro perché non facciamo arrivare qui da lei, Padre Santo, i bambini di tutto il mondo. Ed eccoci qua a concretizzare questa straordinaria iniziativa di Papa Francesco. E lui che cosa ha detto nel farsi di questa iniziativa? Ci ha seguito, ha seguito tutti i vari passi e vedo e colgo un Papa entusiasta che rivela la sua natura, direi oggi, di nonno. E quindi sarà davvero un incontro tra il nonno del mondo e i bambini. Vedo e registro anche tanto entusiasmo da parte dei più piccoli. I bambini ci insegnano la limpidezza della relazione e l'accoglienza spontanea dei chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Come sono stati scelti questi bambini? Abbiamo lasciato la libertà alle scuole di poter vedere dove c'era più interesse e questo è stato il criterio, insomma. Chi volesse partecipare, cosa deve fare? Rivolgersi all'ufficio regionale scolastico per quanto riguarda l'Italia oppure un'email enzochiocciolabuongiornobravagente.it dove ricevete man mano tutte le indicazioni. E comunque da ricordare il patto educativo Papa Francesco ha sempre insistito sulla figura dei nonni da una parte ma anche recuperare lo sguardo dei bambini. E' verissimo questo, infatti una delle immagini che ha scelto proprio Papa Francesco in questo testo che accompagnerà la giornata è i due nonni con accando due nipotini. E su quella ha insistito molto, su questo rapporto, su questa eredità che continua dei nonni attraverso i nipoti. Poi ci saranno quattro parole chiave che accompagnano la preparazione di questo evento. Insomma c'è tanto lavoro, tanta preghiera, tanto entusiasmo. E i bambini appunto come hanno reagito? I bambini sono contentissimi. Chi sta preparando delle poesie, chi dei canti, chi dei giochi. Sarà anche un pomeriggio all'insegno della gioia perché i bambini sono un'onda di gioia e di entusiasmo. Senti, secondo te i bambini la cosa più importante che possono insegnarci qual è? Ad aver fiducia. Io credo che in questo è verissimo. Papa Francesco ha ragione. La fiducia perché si affacciano al mondo con una purezza. Infatti nel testo dell'Angeus che Papa ci ha detto ha richiamato questo termine. La purezza dei bambini, la capacità di accogliere senza diffidenze. insomma i bambini davvero possono rieducarci. E noi perdiamo tanto crescendo e diventando adulti. Ma io direi che a volte la nostra vita viene inquinata e ci lasciamo inquinare dall'aria viziata. Abbiamo bisogno davvero di disinquinare il cuore, disinquinare lo sguardo per recuperare la bellezza straordinaria che questo mondo contiene e vive. E quindi impariamo dai bambini. Impariamo dai bambini e tutti un po' giullari come San Francesco. Cari bambini, a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi. Salutati. Grazie. 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 Grazie.